Lo vediamo le marcature, anche al centro campo, l'unica cosa è che dobbiamo stare concentrati già dall'inizio, entriamo subito in partita, cerchiamo di gestire bene la gara, dobbiamo fare il meno errori possibili e quando stiamo negli ultimi 20 metri dobbiamo essere concentrati, dobbiamo prendere la porta, essere cattivi al punto giusto, entriamo subito in partita, 25 minuti passano così, è difficile poi recuperare, allora piuttosto che recuperare cerchiamo di stare in partita fino all'ultimo minuto, sui falli laterali, sulle punizioni, tutti con calma, quando invece siamo in superiorità numerica cerchiamo di battere le punizioni il più velocemente possibile e andare a cercare gli attaccanti, non aspettiamo che rientrano per poi farsi posizionare, là dobbiamo essere bravi, ieri abbiamo battuto una punizione quando stavamo vincendo e quando invece dovevamo riflettere, invece quando dobbiamo attaccare e dobbiamo vincere facciamo i denti e siamo là, è là che mi saltano i nervi, là significa incominciare a diventare giocatori esperti, anche questo percorso è stato bellissimo, l'unica cosa che ci manca è Marvone, però questo vi deve servire la lezione per tutti, basta un piccolo errore anche a fine partita che poi alla fine si ripercuote su tutta la squadra, sul mister, su tutti quanti, allora noi dobbiamo essere esperti anche sotto questo punto di vista, si vince, si perde, si accettano le sconfitte, la partita di calcio finisce là, a me quello che mi interessa è la vostra crescita cavolo e la crescita significa anche gestire meglio le vittorie e anche le sconfitte, perché anche qua siamo stati grandi, anche qua con tante difficoltà siamo arrivati fino alla fine, questo che significa? Che se mi venite dietro, se continuate a lavorare in questo modo, noi diventiamo sempre più grandi, però ci vuole accoccio voglio, ci vuole accoccio già da quando si entra nello spogliatoio fino a quando si esce oggi, quindi cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di dare il massimo, poi quello che viene, però anche qua abbiamo raggiunto l'obiettivo, anche qua siamo stati grandi, porca miseria, va bene, per questo magico gruppo, bimbi ura! Bimbi ura! We're gonna...! rades! …bocca al lupo, crepi il lupo eh! E le casacche della panchina dopo chi esce ve lo dà appunto, perché ne sono dieci solo. Ah sì, sta in panchina, dentro una busta, sì sì, loro della panchina già hanno la casacca, tra poco inizierà la gara, i nostri ragazzi indossano la casacca, una casacca azzurra per differenziarsi con... Va bene? Sì, scusi. Allora ragazzi, andiamo verso il centro e poi ci ragioniamo sul pubblico, ok? Andiamo! Ecco, le due squadre entrano in campo, la finale per il primo e secondo posto tra i nostri ragazzi Virtus Castelpentano, giovanissimi, contro la compagine del Terni Est, finale per il primo e secondo posto. Arbitra l'incontro il direttore di gara e della sezione Aia di San Benedetto del Tronto. Oggi manca Gianluca Malbone squalificato. ecco, ho il saluto al pubblico, i calciatori si salutano con l'arbitro, con il direttore di gara, ecco, adesso vanno nelle panchine avversarie, i nostri ragazzi indossano una casacca azzurra, qua la nostra panchina con il pubblico, c'è anche il nostro drappo giallorosso in tribuna, in bocca al lupo, trepi il lupo. Fra pochi secondi inizierà questa finale per il primo e secondo posto, Virtus Castelpentano, Terni Est.